Basta operazione della Polizia di Stato sul territorio nazionale per il contrasto all'illecito smaltimento di rifiuti per accertare e sanzionare le molteplici forme di illecità nel delicato settore della tutela ambientale. Controlli anche in provincia di Benevento dove sono state deferite alle autorità competenti quattro persone per i reati di inquinamento ambientale, gestione di rifiuti non autorizzata, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesagistici. Inoltre nei confronti dei titolari di una società è stata anche elevata una sanzione amministrativa per un importo di 4.100 euro. È stata inoltre riscontrata la presenza di un'area di circa 4.000 metri quadrati in parte coperta da vegetazione adibita a discarica abusiva da tempo utilizzata per il deposito illecito di rifiuti speciali.